Buongiorno a tutti. Il Vangelo di oggi ci parla di una storia. Gesù che incontra i capi dei sacerdoti e racconta una parabola di due figli e li invita a lavorare nella vigna. Il primo gli dice che non ha voglia ma poi andrà e il secondo gli dice di sì ma poi non andrà. Ecco che Gesù parla dell'ipocrisia della religiosità che spesso possiamo vivere ed è per questo che i pubblicani e le prostitute si mettono in cammino che hanno un cuore attento per amare ed accogliere la parola che salva. La storia della salvezza è per tutti gli uomini che hanno un cuore capace di accogliere una parola che salva. Ecco la storia della salvezza, l'incarnazione, il Dio con noi che apre il cuore di ogni uomo abbattendo i muri di una corruzione che si serve e serve è la corruzione altrui. Il Signore ci chiama a un amore libero che è capace di accogliere la sua parola. Arrivederci a tutti.